Nel portare avanti la propria azione politica di contrasto all'attuale amministrazione, il centrodestra non riesce proprio a sottrarsi dal focalizzare tutti i propri sforzi nell'attacco personale preconcetto e pregiudizievole nei confronti del sindaco Francesca Valenti. E' il Partito Democratico ad intervenire oggi per difendere sindaco e amministrazione dal nuovo attacco dell'opposizione di sabato scorso, come se non fossero bastate, osserva il PD, una settimana intera di conferenze stampe e sei ore di dibattito politico in consiglio comunale. Centrodestra accusato di preferire dunque l'attacco personale anziché una contrapposizione politica che punti al merito delle questioni e che si scandalizza poi se l'avversario, dopo essersi sentito dire di tutto e di più per giorni e giorni, abbandoni per un attimo la sua compostezza e decida di reagire nel tentativo di difendere se stesse la credibilità di un'intera coalizione. Per il Partito Democratico, esempio lampante di questo teatrino, è innanzitutto la polemica sulle interrogazioni consigliari non discusse in questi primi 14 mesi di mandato, sollevata nei giorni scorsi dal consigliere Salvatore Monte. Prima di indignarsi, scrivono i consiglieri PD, l'ex assessore dovrebbe fare ammenda del fatto che quando lui stesso governava la città, numerose interrogazioni dell'opposizione del tempo venivano discusse con anni di ritardo e una quantità enorme non sono state nemmeno discusse prima della fine della consigliatura. Poi la vicenda della bretella di Bordè, anche questo oggetto delle recenti critiche dell'opposizione di centrodestra. I ritardi nell'apertura dell'arteria, osserva il PD, sono legati non certo a responsabilità politiche o, peggio ancora, di incompetenza. Tali ritardi sono da ascriversi al fatto che, in base ad accordi tra Comune ed Anas, l'apertura della bretella è collegata alla successiva presa in carico da parte del Comune di tutte le altre bretelle laterali site incontrata Piana Scunchipani e, pertanto, l'apertura deve essere preceduta dalla stipula di un disciplinare tra i due enti che sovrintende disciplini tali passaggi. Infine, in ordine al Teatro Popolare Samonà, il centrosinistra puntualizza come soltanto su iniziativa del deputato Michele Catanzaro. La città di Sciacca potrà, per la prima volta nella storia, contare su un cospicuo contributo finanziario per la gestione dello stesso. Insomma, altro che disinteresse, conclude il Partito Democratico, che invita l'opposizione di centrodestra a rinunciare alla caccia all'uomo e a confrontarsi, dividersi o unirsi, restando però sul merito delle questioni.